Ciao ragazzi, oggi voglio fare una cosa veramente strana, ossia quella di parlare di anime a caso, cioè proprio robe a caso. Come farò questa cosa? Praticamente utilizzerò un sito che si chiama Random Anime Generator, che mi creerà un anime sul momento e io, se l'ho visto, ne parlerò. Queste sono le idee che mi vendono quando sto morendo di caldo e non so che cavolo fare. Ok, andiamo subito a fare Genera un anime a caso e ci uscirà Akiba Strip The Animation, cose completamente a caso, ecco, vedete? Allora, allora, io l'ho visto, questo qua l'ho visto, quindi bella roba. Beh, bella roba per modo di dire, perché in realtà ricordo pochissimo, mi pare che è tratto da un gioco, sta anime, e in realtà mi aveva intrattenuto abbastanza perché aveva delle animazioni piuttosto fighe, mi pare che ci fossero un sacco di superpoteri, tizi pazzi, che facevano cose incredibili, e niente, mi pare anche che tra l'altro il gioco sia un po' più spinto, diciamo, dell'anime che posso dire. Niente di che, qualcosa di carino c'era da vedere, ma proprio a tempo perso, nulla di particolare assolutamente, non lo consiglierei praticamente a nessuno, se non a qualcuno che veramente non ha niente da fare, però io sinceramente l'ho visto perché me lo sono trovato davanti, uno di quegli anime che guardi proprio a casissimo, senza sapere niente, nessuno lo conosce, di fatto così è e così resta. Andiamo col secondo, J.K. Meshi, voto medio 4.25, non lo conosco e forse è meglio non conoscerlo. Tamayomi, non l'ho visto, perfetto. Tiger e Bunny, non l'ho visto. Madonna raga ma non, ma che caro, non conosco niente, eppure ho visto più di 700 anime. Ragazzi, non ne conosco uno, ah finalmente uno che conosco, anche questo però è sconosciuto, escono proprio robe a casissimo, questo sta su Netflix tra l'altro se lo volete vedere, e non ho mai conosciuto qualcuno che l'abbia visto in realtà, però devo dire che in realtà questo è carino, è un meca, quindi robottoni, cose così, però è anche un po' scolastico, c'è anche un po' di romanticismo e mi era piaciuto molto per questo, i personaggi pure erano carini, non è niente di che assolutamente, però è una storia che inizia e finisce, mi pare ci sono circa 26 puntate, tra l'altro qua c'è scritto appunto 26, devo dire che è una serie che comunque ho apprezzato, ci ho messo pure 8 come voto mi pare perché niente di incredibile ma funziona, intrattiene e si svolge bene, è un bel finale, dei bei personaggi, va bene, una buona serie secondo me, che qualcuno in più avrebbe dovuto conoscere sicuramente. Ah, ecco qua un altro anime, ecco qua, è bello perché ogni tanto rispolveri serie che ti erano piaciute e che non ti ricordavi minimamente, esatto, anche questa ho visto, questa serie, che... Konobi, Jutsu Buu, Niwa, Mondaigaru, sì è uno scolastico, una commedia romantica, divertente, molto carina, molto dolce, per questo mi piaceva molto, il design molto puccioso, molto carino, personaggi simpatici, divertenti, è una di quelle serie che non hanno un finale purtroppo perché mi pare che è adattato da un manga, ok, c'è scritto, e che semplicemente non andrà mai avanti perché non ha avuto chissà quanto successo ovviamente, però devo dire che è una di quelle serie che quando vedi in un periodo stressante ti rilassa tantissimo, di conseguenza l'ho apprezzata tanto, ripeto, niente di che, è uno scolastico, è una commedia romantica, però devo dire che a me è piaciuta, e secondo me l'ina di massima è comunque fatta molto bene per quelle poche puntate che ha. Ah, Sakura Sono Pet Nakanojo, ok, altra commedia romantica, questa sicuramente molto più conosciuta, che anche essa è molto bella, pure questa qua non ha un finale, però devo dire che è stata una bellissima esperienza, mi ha divertito tantissimo, mi ha rallegrato tantissimo, è molto dolce, è molto positiva, trasmette veramente tante belle sensazioni, i personaggi pure sono molto carini, sì, stereotipati, non tutti in realtà, però nell'anime comunque vedi diverse difficoltà, molto bella anche l'ambientazione, i colori dell'anime, è una bella serie anche questa, sì, mi è piaciuta veramente tanto, e questa qua credo che in realtà la conoscano veramente tanti. Non riesco ad andare in dettaglio ragazzi, perché purtroppo sono serie che ho visto tantissimo tempo fa, ricordo delle parti, delle sensazioni che mi ha trasmesso, però purtroppo i dettagli in sé no, e anzi in realtà mi invoglia quasi a ripercorrere di nuovo questa avventura, per questa tipologia di format devo dire che mi invoglia davvero tanto a riguardare proprio questa serie. Ma ragazzi direi che per oggi possiamo fermarci qui, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere voi se vi piace questo format un po' più sciallo, libero, chiacchierato, perché veramente sto morendo di caldo, non mi vengono idee, ma questa è un'idea secondo me molto carina. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate anche di questi anime di cui abbiamo parlato, se li avete visti, se non li avete visti. Fortunatamente non ce n'è capitato nessuno brutto di quelli che ho visto, ma sicuramente se lo rifaremo usciranno cose veramente inguardabili. Oggi siamo stati fortunati, tante commedie romantiche, tante robe belle, simpatiche, e quindi sono contento. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto, seguite i vari social che trovate con la sua iscrizione, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!